ben trovate tutti voi amici di le fonti tv eccoci pronti per una nuova puntata di no haber tutte le voci della formazione il nostro format mensile in collaborazione con rebis e questa volta visto che insomma di solito introduco io l'argomento e tra poco vedremo anche in sovrimpressione di cosa parleremo ma visto che ho la fortuna di avere l'amministratore unico di rebis manuel minati direi che lo saluto e introduco con lui la puntata manuel grazie per essere qui e ben trovato grazie a te manuele parlo io no del tema della puntata però siccome è un tema che devo essere sincera per me è molto caro nel senso che mi piace l'idea di approfondirlo un tema fondamentale in questo momento la premessa è sempre la stessa che il modo di lavorare si è evoluto è cambiato non solo per quello che è successo recentemente ma proprio perché c'era bisogno anche di dare una svolta diversa no al mondo del giro e del lavoro e quindi il fatto che oggi parliamo di intelligenza emotiva così almeno leggiamo il titolo empatia creatività e vogliamo cercare di capire quanto queste questi elementi siano indispensabili e utili per il lavoro insomma lasciate l'introduzione perché quanto a che punto siamo quanto è importante guarda in questo momento si sente tanto parlare di temi digitali di necessità di lavorare sul tema della digitalizzazione delle competenze in realtà dal nostro punto di vista lavorando con tante aziende ci siamo resi conto che il vero fabbisogno che oggi emerge è proprio quello di lavorare sulle competenze umane possiamo definirla intelligenza emotiva possiamo definirla benessere possiamo definirla empatia possiamo definirla creatività ma di fatto noi stiamo comunque andando a sostenere quelle che sono le attitudini personali lavorando e sviluppandole con la formazione perché un'altra cosa importante è capire che si può lavorare queste competenze personali sviluppandole attraverso dei percorsi di training le competenze che fanno la differenza in azienda è proprio questo che abbiamo voluto sottolineare bravissima ormai le competenze che vengono richieste dalle aziende e che sono utili ai lavoratori nel momento in cui devono fare un passaggio anche importante come quello che stiamo vivendo in queste settimane in questi anni in quest'anno è proprio quello di sviluppare le proprie competenze umane applicandole però al mondo del lavoro e quindi dando quel qualcosa in più e non è più solo una competenza tecnica un'ultima cosa prima di addentrarci in quello che è il dibattito quindi la seconda parte della nostra puntata non a caso insomma questo format ha proprio l'obiettivo di attraverso più puntate creare un filo conduttore tra tutti gli argomenti tu hai ricordato Manuel che la prima puntata era proprio concentrata sul digitale quindi su qualcosa che ormai lo facciamo già parte delle nostre vite anche prima però che ormai non può prescindere dal nostro modus operandi dal nostro modo di lavorare no e anche l'argomento di oggi è collegato esattamente a quello e non a caso abbiamo parlato nella prima puntata di intelligenza artificiale oggi parliamo di intelligenza emotiva perché entrambe fanno parte della nostra vita sia professionale che non professionale quindi dobbiamo lavorare su entrambi Manuel chi sono gli ospiti che ci parleranno di questo argomento abbiamo chiesto a Enrico Martinez e Elga Corricelli che sono per noi due professionisti di altissimo livello di darci il loro punto di vista sia dal punto di vista di un'azienda sia dal punto di vista di una professionista di questo settore quindi ora scopriremo i loro pensieri e sono sicura che scopriremo tante cose vediamo grazie dunque a Manuel Minati per avere introdotto questo tema decisamente interessante per la puntata del mese adesso noi dobbiamo addentrarci in quello che è il dibattito proprio sull'intelligenza emotiva sull'empatia sulla creatività dobbiamo scoprire realmente nel concreto quanto siano utili nelle aziende allora per parlarne abbiamo chiamato intanto in studio con me Elga Corricelli Chief Happiness Officer Elga ben trovata grazie praticamente il capo della felicità di un ufficio al lavoro insomma come si potrebbe tradurre in italiano allora è difficile la traduzione in italiano però a noi piace parlare della figura che può accompagnare nella trasformazione verso la positività e verso la felicità per cui è sostanzialmente il Chief Happiness Officer è un complexity thinker cioè una figura che riesce a mettere insieme elementi esterni elementi interni e tiene contro attraverso la scelta della felicità tiene conto proprio di come creare una relazione positiva tra le persone a partire dalla leadership fino a tutte le persone creando il benessere che bello aiuti a cercare la felicità diciamo così a ritrovare il benessere che magari soprattutto in situazioni più legate allo stress del lavoro a volte si perde dai diciamoci poi entriamo nel dettaglio però mi piace dare questa questa specifica non ci sarà con me solo Elga per questa parte di battito saluto in collegamento Enrico Martinez direttore dello sviluppo e innovazione sociale Hewlett Packard Enterprise Enrico ben trovato grazie per essere con noi grazie ben ritrovati beh e so Enrico poi naturalmente anche con te interreremo più nel dettaglio che voi avete già intrapreso un percorso davvero virtuoso da questo punto di vista è corretto? è corretto e insomma sarà un piacere riuscire a condividere con voi quelle che sono state un poco le esperienze che abbiamo sviluppato in azienda nella direzione poi di sostenere le persone soprattutto durante questo questo grande periodo di rivoluzionario cambiamento che col distanziamento sociale ha dovuto per forza di cose rivedere un poco quelle che erano le competenze soprattutto per i people manager per i leader che devono guidare le persone in azienda bene Enrico allora Elga ti dirò la verità che stavo proprio ragionando su questo su questo aspetto se rinasco mi sa che cerco anch'io di fare il tuo stesso lavoro perché mi sono un po' informata allora la scienza della felicità e delle organizzazioni positive giusto per dare anche dei punti di riferimento ai nostri telespettatori è stata integrata con successo in master e in corsi di formazione in molte università prestigiose del mondo possiamo citare Harvard, Berkeley, Michigan e non solo proprio a partire da questo da questo aspetto arriviamo subito in casa nostra perché mi piacerebbe capire quanto utilizzata questa figura nelle aziende italiane perché effettivamente non se ne parla tanto questo non significa che non ci siano queste figure però mi piacerebbe fare il punto con te Volentieri allora dire che oggi ci sia una penetrazione dei chief happiness officer come in altri paesi Stati Uniti in testa sarebbe dire una parziale verità tra l'altro l'associazione che certifica in Italia perché siamo diciamo è necessario fare una certificazione e attualmente in Italia siamo circa un 140 ai chief happiness officer sostanzialmente ci aiuta a sviluppare quelle competenze che poi potrebbero vedere ogni collaboratore in azienda diventare chief happiness officer perché indipendentemente dalla sigla chief ogni persona ha la possibilità allenando la felicità che sappiamo essere una scienza non solo un'emozione quindi possiamo allenarla come alleniamo qualsiasi muscolo ha la possibilità sostanzialmente di portare benessere e positività all'interno del proprio team all'interno della propria vita all'interno della propria organizzazione questo è il grande vantaggio quindi il chief happiness officer oggi ha una piccola penetrazione sta crescendo moltissimo e il vantaggio è che si sta cominciando nelle aziende italiane a parlare di positività a parlare di happiness a parlare di tutto ciò che parte dalla persona arriva al sistema come organizzazione e dal sistema ritorna la persona quindi si crea proprio una chimica positiva che accompagna la persona in azienda ma non solo in azienda nella famiglia nella società tutta quindi è proprio un impegno che ognuno di noi può prendere prima di tutto partendo da se stesso e poi portandolo all'interno del sistema organizzativo allenando quella che è la nostra intelligenza emotiva quelle che sono le nostre caratteristiche che non impattano soltanto sulla nostra attività ma la rendono migliore più produttiva ma ci aiutano proprio a vivere meglio tu hai detto già una cosa molto importante che ammetto io non sapevo perché quando si pensa alla felicità si pensa all'emozione no tu hai detto beh lo sappiamo è un'emozione diciamo sono felice perché mi succede qualcosa invece l'ho proprio scritto è una scienza la felicità quindi e qui poi ci torniamo dopo si può allenare un po come qualsiasi muscolo anche del corpo perché poi pensiamo che l'allenamento sia solo legato qualcosa di fisico invece scopriamo grazie a te che invece alla mente proprio si può allenare per essere plasmata nel senso positivo per riuscire ad ottenere l'obiettivo questa cosa veramente non la conoscevo e l'ho segnata e poi l'approfondiamo perché questo ci porta a capire come effettivamente l'intelligenza emotiva l'empatia e la creatività da cui siamo partiti che il titolo della nostra puntata possano essere davvero utili in azienda e così almeno trasformo questa questa affermazione in domanda e vado da enrico quanto sono utili in azienda appunto queste 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 cose insomma come le possiamo definire queste scienze queste emozioni ecco ormai non so più neanche come come definirle enrico ma definiamole benessere e benessere organizzativo passa attraverso sicuramente delle scienze ma delle scienze che fatemi dire hanno le radici nel passato insomma mens sana incorpore sano è una massima che continua ad essere assolutamente attuale e soprattutto se andiamo a pensare agli eventi che hanno caratterizzato lo scorso anno con un distanziamento sociale che in modo massiccio ha generato delle delle discrasie delle degli allontanamenti e piuttosto che delle complessità di carattere organizzative gestionale ecco che andare a riflettere ripensare su quei modelli che vanno a valorizzare gli stati d'animo l'empatia il benessere diventano fondamentali all'interno dell'azienda tanti aziende faccio l'esempio di hewlett packard enterprise ma come la mia azienda tante e lo hanno compreso immediatamente e si sono mosse da subito per creare delle sorte di percorsi di benessere organizzativo che andassero nella direzione di sostenere da una parte la parte psichica dei colleghi che erano forzati in un distanziamento sociale e dall'altra parte anche rinforzando quelle che erano la parte più le parti più legate al fisico quindi da percorsi di ergomotricità a percorsi di yoga che venivano fatti attraverso il collegamento remoto in classi però singole cioè singole in classe in singole classi con un numero limitato di colleghi fino a percorsi che vanno e tuttora vanno nella direzione della meditazione della mindfulness piuttosto che nella dialogica filosofica qual è il qui il punto fondamentale quello di ragionare nei confronti dell'organizzazione non come un sistema verticistico o matriciale come si è ragionato in teoria dell'organizzazione fino agli scorsi 10 15 anni ma rivedere l'organizzazione come una sorta di organismo vivente questo per rifarci un po alle teorie di Fedrix Velloux è un organismo vivente che è fatto da tante componenti e queste componenti per interagire lo fanno con quella che è la parte più profonda dello spirito umano e quindi le emozioni l'empatia l'interazione sociale che si basa ecco su queste caratteristiche umane che poi rendono effettivamente diversa l'azienda concludo dicendo che questi fattori non sono banali perché le aziende oggi fanno un lavoro di carattere intellettuale e il lavoro intellettuale creativo si sviluppa su queste competenze che poi sono quelle fondamentali che ecco danno l'impulso alle aziende affinché possano fare e far sempre meglio ecco questo un altro spunto molto molto importante mi aggrappo a quello che diceva Enrico per farti un'altra domanda che poi si associa a quello che abbiamo detto fino adesso fattori non banali assolutamente banalmente invece no sappiamo tutti che quando siamo più lucidi mentalmente più riposati abbiamo anche modo di creare di più e quindi di rendere maggiormente sul lavoro però spesso si sottovaluta se deve correre se devono sempre fare mille cose a livello lo dicevamo prima proprio parlando dell'Italia di mentalità quanto è recepita questa cosa e poi passiamo anche all'altro aspetto che già accennavamo poco fa quanto è allenabile tutto ciò cioè qua come possiamo fare cioè ok iniziamo l'allenamento ma come in che modo allora è tutto allenabile questa è la buona notizia è allenabile nella misura del 40 per cento secondo la ricercatrice americana Sonia Lubominski che fatta 100 la nostra componente di felicità intesa come competenza il 50 per cento è genetica il 10 per cento dipende dalle circostanze quindi ci possiamo fare un po' poco ma il 40 per cento è allenabile questo ci dà una visione totalmente diversa perché prima di tutto parte da una nostra scelta noi possiamo avere la responsabilità di scegliere di essere felici al lavoro e non solo al lavoro e questa la parte fondamentale quindi a livello professionale quello che diceva Enrico è assolutamente fondante siamo fatti di molti elementi ci sono tecniche noi le chiamiamo pratiche di felicità la meditazione la mindfulness alcune discipline unire corpo e mente ricaricarsi noi abbiamo una quantità di energia quotidiana e non possiamo andare oltre ma sappiamo esattamente oggi grazie alle neuroscienze e quindi nuovamente parliamo di scienze anche se sono a supporto di della parola felicità che a volte ci ripeto ci ci rende un po di distante da dall'obiettivo aziendale il cammino in realtà è centratissimo oggi è provato che organizzazioni positive quindi con persone felici performano meglio performano meglio da un punto di vista di vendite di produttività hanno un turnover minore quindi c'è maggiore fedeltà ma c'è un aspetto importante c'è addirittura un miglioramento in ambito creativo e innovativo dove per creazione per creatività parliamo di creatività non artistica ma proprio il pensiero laterale il vedere le cose in maniera diversa e quindi poter innovare che una grandissima necessità odierna superiore al 300 per cento rispetto a realtà che non hanno queste pratiche quindi è tutta questione di abitudine non va del tema scusa io sono fatto così perché tu parlavi di genetica del 10 per 10 per cento 50 per cento però è poco rispetto a quello che ci immaginiamo perché di solito diciamo vabbè io sono fatta così non sono una persona ottimista vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto invece no c'è anche le persone che vedono bicchiere mezzo vuoto possono arrivare a vederlo assolutamente totalmente pieno ma insomma un po più pieno ma poi essere felici scusami se ti interrompo essere felici significa essere coscienti delle proprie emozioni avere una self awareness molto forte essere allineati col proprio vero sé non vuol dire sorridere tutto il giorno o non vedere le negatività significa sapere quale risorse ed energie abbiamo per poterle risolvere e pensare sempre all'opportunità e meno al problema essere poco giudicanti ma essere curiosi ed è per questo che anche a livello organizzativo questa attitudine è potente certo perché si lavora meglio in team Enrico beh sì ti faccio agganciare a quello che diceva Elga però magari aggiungendo dei tasselli proprio come viene allenato tutto questo questa scienza ma è una scienza esatta quindi la felicità non è una scienza esatta quello no però diciamo ci si può arrivare ci si può arrivare al quanto più alla perfezione allenandola assolutamente dicevo Enrico appunto quanto viene allenata nei processi aziendali no perché poi bisogna quando si fa business quando si lavora bisogna intersecare un po' tutto partiamo da un presupposto perché si possa andare in questa direzione bisogna volerci andare anche perché la resistenza al cambiamento è una condizione antropologica come ci diceva Levi Strauss che significa che prima ancora di iniziare un percorso verso una direzione del cambiamento e di innovazione bisogna creare la condizione culturale attraverso la quale le persone desiderano promuovere questo cambiamento e parlando di innovazione non c'è dubbio che lo strato culturale che viene creato in azienda e poi quello che permette ecco l'adozione dei modelli e per rifarsi a quello che diceva la collega forse da noi ancora in ambito aziendale la cultura della felicità non l'abbiamo adottata quando dico noi dico noi come sistema paese ci sono delle aziende più più illuminate da questo punto di vista ed è interessante notare come le aziende più illuminate sono tipicamente quelle del settore tecnologico che sembra quasi una contraddizione cioè più sono spostate verso un ambito innovativo tecnologico più il sentimento umano quelle che sono le caratteristiche tipiche delle dell'umanità vengono percepite come importanti piuttosto che concentrarsi sulla tecnologia però anche se sembra una contraddizione non è una casualità e non lo è perché per l'appunto sono in genere le aziende di carattere tecnologico che sono quelle che fanno un po' più da traino verso sistemi innovativi e si è compreso come architettare una cultura di base un humus all'interno dell'azienda che possa favorire questi cambiamenti poi sia la chiave di volta per poter ecco innescare un cambiamento aziendale schumpeter diceva che l'innovazione può avvenire in due modi o per distruzione oppure per costruzione con gli elementi che sono già presenti ecco noi non possiamo che muoverci in questa direzione quindi trovare le competenze che esistono in azienda e trasformarle attraverso un impianto culturale verso una promozione di attività che vanno nella direzione del benessere ne beneficiano le persone sono più contente sono più produttive ne beneficia quindi anche l'azienda la direzione della produttività certo ecco siamo quasi in conclusione di questo primo dibattito ma mi auguro poi che ci sarà modo di riprenderlo quanti quante figure come te esistono in italia numericamente 140 al momento 140 sono tante poche beh si può fare sempre di più che si può fare meglio ma soprattutto si può diffondere una cultura che non prevede necessariamente una figura che abbia tutte queste competenze ma all'interno della stessa azienda persone che si avvicinino giustamente diceva Enrico prima di tutto bisogna partire dal volerlo bisogna partire da noi e arrivare agli altri quindi si può diffondere la cultura per concludere ma gli scenari più vicini cosa possiamo aspettarci allora processo allora io credo che l'intelligenza empatica e avvicinarsi alla positività sia utilissimo sia stato utilissimo in nel periodo della pandemia del club della pandemia mi piace definirla così e sarà senz'altro utile da qui in poi in questo new normal perché anche lavorare a distanza imparare a costruire gli obiettivi imparare a dare e avere fiducia dai colleghi riuscire ad ascoltare attivamente tutte queste sono competenze che rendono potentissimo anche il lavoro a distanza quindi credo che continuare ad allenare queste competenze e sarebbe bellissimo poterlo fare già dall'università ma anche dalle dalle scuole secondarie potrebbe essere un modo per creare un benessere organizzativo non dico spontaneo ma più semplice in tutte le strutture certo Enrico anche le conclusioni da parte tua insomma un processo che necessita di una rivoluzione proprio da quando nasciamo insomma mettiamola così sì una una rivoluzione che dovrebbe partire dall'impianto del modello scolastico che oggi è molto distonico rispetto a quello che è il mondo del lavoro due parole che possono essere quelle guida per le aziende che vogliono intraprendere questo percorso transilienza e antifragilità quindi la capacità di saper gestire i momenti di stress tirandone fuori le opportunità e quindi cambiando il punto di vista rispetto all'argomento per avere ecco una propulsione positiva di se stessi e dell'azienda stessa grazie Enrico Martinez ci ritroviamo presto così come saluto Elga Corricelli davvero grazie se vogliamo essere tu felici ti chiamiamo insomma questo è un po' il senso grazie davvero scegliamo di esserlo scegliamo di esserlo questo mi piace assolutamente a questo punto noi ci avviamo alle conclusioni di questa puntata e le conclusioni della puntata con Cindy Martin Grasso project manager di Revis che ritrovo molto volentieri con molto piacere grazie per essere ancora con noi grazie grazie a voi grazie a te Manuela le conclusioni sono fondamentali perché insomma chiudono un po' il cerchio rispetto ai temi che affrontiamo in ogni puntata lo scopo di questo format permettimi di dire poi lascio la parola a te quella anche quello di creare una vera e propria community sui temi fondamentali per il lavoro non del futuro ma del presente perché mi piace dire così come fare? certo allora io il mio ruolo anche quest'oggi è quello di presentare il nostro hub un gruppo chiuso su LinkedIn dove ci sarà la possibilità di approfondire gli argomenti della puntata di oggi quindi di questa puntata felice ci saranno degli approfondimenti riguardo all'intelligenza emotiva come si possono trovare gli approfondimenti della prima puntata quindi tutto quello che è stato la voice of customers abbiamo del materiale che stiamo pubblicando di volta in volta che andrà avanti anche nei prossimi mesi che affronteranno i temi che tratteremo qui diciamo con i nostri esperti e con i nostri hub specialist esatto infatti stiamo vedendo anche scorrere insomma il luogo dove ritrovare tutto quello che poi riassumiamo nelle puntate mensili sulle fonti tv quindi l'invito è quello di seguire appunto la pagina sì 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 assolutamente chi siamo meglio è gli argomenti sono sempre interessanti ci sarà la possibilità eventualmente per chi fosse interessato di chiedere degli appuntamenti one to one con i nostri specialisti e quindi poi di capire quali sono i temi di maggior interesse e poi tracciarli direttamente qui le fonti con voi mi piace aver sentito da te questa puntata felice effettivamente insomma io lo sono più felice dopo aver scoperto le molte cose interessanti che sono immerse nel nostro nel nostro dibattito spero che sia arrivata la stessa empatia proprio per prendere questa questa parola ai nostri telespettatori e possiamo dare qualche anticipazione per la prossima puntata assolutamente ci rivediamo la prossima al prossimo mese il 25 marzo non sveliamo il titolo quindi speravo anche questa volta sarà una sorpresa quindi anticipazione insomma si ferma alla data alla prossima quindi 25 marzo assolutamente sempre sulle fonti tv però nel frattempo avete tutto questo mese per tanto rivedere la puntata quante volte volete soprattutto per collegarvi ricordiamo ancora la cosa fondamentale il nostro gruppo chiuso perché noi lo diciamo sempre condividiamo lo stesso obiettivo le fonti tv e rebis cioè quello di creare sempre più sinergia per lavorare bene appunto l'esempio è questa puntata in cui abbiamo anche affrontato il tema della felicità del benessere come scienza abbiamo scoperto questo in virtù di migliorare sempre di più le prestazioni singole ma soprattutto della community e torniamo su questa parola perfetto va bene allora ci vediamo il prossimo mese grazie a sini grazie grasso project manager di rebis e naturalmente grazie a tutti voi per aver ascoltato tutti gli spunti interessanti della nostra puntata di aver tutte le voci della formazione naturalmente al prossimo mese arrivederci